Nell'anno del cinquecentenario delle Mura di Lucca, una tegola si abbatte sul monumento più importante della città. Dopo le copiose precipitazioni di questi giorni, è comparsa nella zona Porta Elisa una cheppa di oltre due centimetri che ha costretto l'amministrazione comunale a transennare l'ingresso pedonale di destra. La fessura in parte era presente, ma pare che proprio la pioggia degli ultimi giorni abbia aggravato ulteriormente la crepa. Nella giornata di ieri, il geometra comunale Farinelli ha effettuato un superluogo per verificare nell'effettivo stato. Una criticità a quella di Porta Elisa che non è l'unica dell'intera cinta muraria, ma che casca come un fulmine a ciel sereno proprio perché quest'anno si celebra l'anniversario più importante. Il danno pare comunque serio, tanto che anche i muri di contenimento sopra Porta Elisa presentano un processo di sgretolamento avanzato tale da non escludere il rischio di cedimenti strutturali. La Fondazione Cassa di Risparmio ha sottoscritto un protocollo col Comune di Lucca dove stanzia 7 milioni di euro per opere di manutenzione delle mura proprio in previsione delle celebrazioni del 2013-2014. Ma a questo punto pare evidente che non si possa più vivere alla giornata ma che invece occorre a un piano serio per la manutenzione in ottica futura per il monumento simbolo della città di Lucca.